Musica Nel nostro cammino di educazione e di scoperta della felicità Oggi vogliamo soffermare su una terapia che è efficace ma che molte volte ci procura tanta tristezza invece che la gioia La terapia della fraternità, la terapia del sentirsi parte di una famiglia, parte di un gruppo La terapia della fraternità, una delle sfide a cui dobbiamo saper rispondere come educatori, come chiesa, come società Ma anche come politica è quella di educare alla fraternità Cioè a sentirsi fratelli, che è una terapia ed è un valore di cui Francesco d'Assisi possiamo dire essere l'antesignano di sempre L'antesignano soprattutto anche dei nostri giorni La fraternità non solo con l'uomo ma la fraternità anche con il creato Il Papa, Papa Francesco, ha scritto una bella enciclica, l'ha dato sì Dovremo un po' riscoprirla e rileggerla e vedere come ci educa una fraternità mistica con l'uomo così come dice lui Ma anche una fraternità con il creato A sentirsi attivi, responsabili di salvaguardare il creato A sentirsi responsabili dello sfruttamento del creato che stiamo facendo Della violenza al creato che stiamo perpetrando Perché è importante educare ed educarsi alla fraternità Non solo perché mi sento una parte di un tutto Mi sento parte di un mondo E questa parte di un tutto e parte di un mondo Mi sollecita, mi stimola La corresponsabilità Se stanno disboscando un bosco Se stanno distruggendo la foresta amazzonica Non è interesse solo di chi vive lì ma è interesse anche mio Perché anche il mio stile di vita procura tutto questo Quindi fraternità col creato Fraternità col creatore Ma fraternità anche con gli uomini e le donne Il sentirmi fratello Dell'altro mi fa anche sentire cercato Mi fa anche sentire amato E questa educazione all'alterità è fondamentale In un cammino che vuole portarci a scoprire Il nostro essere fatti per la felicità La nostra vocazione alla felicità Chi dice che l'uomo è fatto per il sacrificio fine a se stesso Dice una fesseria Chi dice che l'uomo è fatto per la felicità E la felicità Molte volte bisogna conquistarsela con il sacrificio Dice la verità Dice una verità che dovremmo maggiormente scoprire Soprattutto in questo tempo di forte individualismo Noi dovremmo contrapporci con uno stile di vita Con una testimonianza di forte fraternità Fraternità che mi porta a sentirmi fratello Anche degli emigrati che ora stanno tendando di arrivare in America Vediamo queste immagini Ma che cosa provocano nel nostro cuore queste immagini? Se non provocano nulla Se non provocano indignazione Vuol dire che siamo lontani dalla felicità Vi aspetto domani Paripio TV Dritto al Cuore Ciao a tutti Grazie